Siamo qui con Mr. Manielli. Allora, 5-1 qui sul neutro di Carovigno. Che partita è stata? È stata una partita, diciamo, inizialmente difficile su questo campo. Campo di terra duro, doveva difficile trattare la palla. Noi che siamo una squadra tecnica, ci è voluto un pochettino per adattarsi. Poi i valori sono usciti fuori. Ci siamo complicati la partita con l'espulsione di Lecce prima della fine del primo tempo. C'erano le due munizioni viste dalla panchina? Non lo so, però, voglio dire, era una partita che dal punto di vista dell'agonismo è corretta. Dare due gialli in pochi minuti mi è sembrato un po' eccessivo, però, voglio dire, potevamo stare anche più attenti. Che è successo. I risultati delle altre partite. Il Rutigliano ha pareggiato 1-1 a San Marsano, il Conversano ha vinto 1-0 a Manduria, mentre il Motori è andato a vincere a Crispiano. Attualmente siamo soli i primi in classifica. E domenica prossima andiamo a Rutigliano. Sì, sì, ma, insomma, prima o poi, come ho detto in altre circostanze, le squadre si dovranno affrontare. Quindi, domenica toccherà a noi, poi, credo che ci sia anche, insomma, a Motola, a San Marsano. Saranno delle domeniche in cui ci saranno sempre scontri diretti, quindi, voglio dire, la classifica può cambiare ogni domenica. È chiaro che noi, voglio dire, ci andremo a giocare la partita a Rutigliano nello stesso modo come abbiamo fatto negli altri campi, ecco, cercando di imporre il nostro gioco, cercando di fare bene. Grazie a Mr. Marielli.